Se tutto andasse regolarmente, dopo ovviamente le inchieste sono state aperte. Sì, abbiamo non solo sottoscritto dei protocolli che pure sono importanti, ma abbiamo fatto sì che i controlli ci fossero in ogni ora del giorno e della notte, nei giorni feriali e nei giorni festivi. E direi che questo è stato possibile anche perché abbiamo fatto un accordo tra polizie locali, dei comuni che sono sul sito di Expo, per superare l'extraterritorialità e soprattutto per una collaborazione piena. Questo ha portato una maggiore attenzione sui tentativi di infiltrazione mafiosa. Come ho sempre detto, là dove ci sono soldi, lo diceva Falcone, credo che sia ormai confermato quotidianamente, la mafia arriva, il problema è di bloccarla, di bloccarla in tempi ragionevoli e soprattutto con livelli di prevenzione che possono evitare che le infiltrazioni mafiosi diventino realtà. Ci siamo riusciti, le 76 misure interdittive da parte del prefetto, l'indagine della magistratura, alcuni interventi che abbiamo fatto anche indirettamente come istituzione comunale, allontanando alcune imprese, dimostra che là dove c'è prevenzione, là dove ci sono controlli, la mafia non passa. E malgrado i tentativi molto forti e molto frequenti, a Milano e su Expo la mafia non è passata. Ecco la mafia o anche chi ovviamente tramite... Grazie. Grazie.